E' una storia di eccessiva brutalità, una di quelle storie che si raccontano e che nella nostra città non sono mai accadute. Una ventenne è stata sequestrata, drogata, violentata e costretta alla prostituzione per numerosi giorni da un gruppo di extracomunitari che sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di riduzione schiavitù, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di Krossagai, nigeriano 34 anni pregiudicato, Maghi Stivibbo, nigeriano 31 anni pregiudicato, Laki Okosodo, nigeriano 23 anni, Lorenz Oboko, nigeriano 40 anni, incensurato, e Amaise Ojemki, nigeriano di 27 anni, pregiudicato. La storia ha inizio quando la giovane è riuscita a scappare dal covo dei suoi guzzini, si è recata dai carabinieri in compagnia della madre e ha denunciato il fatto raccontando che è stata drogata durante una festa in un casolare di campagna e si era risvegliata in una casa fatiscente del centro storico dove per giorni è stata ripetutamente drogata, prova ne è il tasso di sostanza stupefacente presente nelle analisi dalle quali è stata sottoposta. Il racconto della giovane è stato perfettamente riscontrato dai carabinieri che sono riusciti a trovare i luoghi dove si è compiuto il misfatto. La ragazza è stata anche indotta alla prostituzione con altri nigeriani e le somme di denaro ricavate erano tratte dute dai suoi persecutori. Alla giovane inoltre sono stati rasati i capelli ad opera di uno dei sequestratori. Solo venerdì pomeriggio la ragazza è uscita a scappare dai nigeriani ed è fuggita con abiti da uomo recuperati in casa. La studentessa in quei cinque interminabili giorni non è stata mai lasciata sola dai suoi persecutori e che a turno la controllavano e ne abusavano sessualmente. Appena è riuscita a fuggire è tornata in libertà. La ragazza si è messa in contatto con i genitori e si è recata in caserma a Stancataldo per raccontare quanto accaduto. In quei giorni i genitori della ragazza avevano ripetutamente cercato di contattarla senza riuscirvi e solo venerdì mattina si erano recati dai carabinieri a chiedere aiuto. All'inizio della scomparsa i genitori non si erano particolarmente preoccupati in quanto la ventenne era solita non rincasare per dormire da amici ma con il passare dei giorni la preoccupazione è cresciuta e avevano deciso di denunciare la scomparsa.